dare il latte con la tazza in questo video imparerete a dare il latte in tazza al vostro bambino è ideale per i bambini che sono ancora troppo deboli per nutrirsi direttamente al seno la tazza permette di imparare delicatamente il movimento della lingua necessario per succhiare il seno per dare il latte in tazza iniziate versando una piccola quantità di latte in una tazza la riempirete man mano mettete il bambino in posizione semi eretta inclinate leggermente la tazza per avvicinare il latte alle sue labbra fate attenzione il latte non deve scorrere in bocca sarà il vostro bambino a prendere il latte con la lingua come un gatto la tazza è preferibile al biberon se si deve integrare un bambino che non riceve abbastanza latte dal seno infatti al seno ingerisce il latte quando la sua lingua è ben tesa in avanti con il biberon è il contrario per evitare che il bambino si confonda è meglio dargli il latte dalla tazza piuttosto che dal biberon